c'erano una volta tre persone che trasportavano con fatica dei mattoni un passante domandò che cosa state facendo il primo disse trasporto dei mattoni con un carro il secondo disse sto costruendo un muro il terzo disse orgoglioso costruisco un castello pur trasportando tutti e tre gli stessi mattoni attribuiscono a quel compito un significato diverso chi pensa sto prendendo parte alla costruzione di un magnifico edificio adempirà il suo compito con fierezza sono certo che anche a voi capita di lottare con le difficoltà tuttavia vi prego di ricordare che ogni sforzo che fate vi conduce alla realizzazione dei vostri sogni continuate a sfidarvi con gioia convinti che state costruendo il vostro magnifico castello le vostre speranze i vostri ideali gli scopi per cui lottate faranno una grande differenza nella vostra vita rimanete fedeli a voi stessi e coltivate nobili ideali continuate a sforzarvi di realizzare i vostri obiettivi senza mai perderli di vista in questo modo potrete edificare un brillante castello di felicità e vittoria nel vostro cuore grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti